E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Senex e oggi signori siamo in un video un po' particolare di Warzone perchè ho deciso che da ora in poi signori i video di Warzone saranno composti da estratti dalle live che facciamo ovviamente su Warzone la squadra che si qualifica nella posizione più in alto sarà protagonista dei video di Youtube quindi che questo sia anche un monito per fare sempre meglio durante le live io vi ricordo che Warzone è in live appunto ogni giovedì alle ore 21 ragazzi giochiamo tutti insieme se siete interessati scrivete il vostro nick qua sotto nei commenti vi ricordo anche di iscrivervi al canale qualora lo voleste di lasciare un bel like una bella condivisione questa partita che abbiamo fatto il nostro team era composto da Gertrudo, Sabrina e del Diablo una partita fantastica veramente non vi dico la posizione andatevela a vedere la scoprirete però una partita molto molto bella quindi questo non ci sarà un outro perchè appunto il video è un composto della live ragazzi quindi non mi resta far altro che salutarvi all'andata e vi saluto anche a ritorno e ci vediamo sempre domani ragazzi con dei nuovi video grazie ciao io non sento nessuno ma credo sia normale credo sia normale senti me comunichiamo comunichiamogli e tu siamo un po' in ritardo ovviamente andiamo ma e il diavolo si è buttato? e il diavolo è il blu si è buttato? eccolo là perfetto mazzo sono una fracca qua ma porca miseria porca siamo morti chissà perchè oh salve e basta scusate questo l'ha ammazzato un po' a pugni lo so non si fa anche lui con una pistoletta? c'è qualcuno? se mi buttassi qua? dentro 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 subito dentro subito è il diavolo salvati ovunque tu sia amico mio mannaggia non c'è un cazzarola di nulla che cosa è questo? ma ci sparo un bazooka? dov'è? salve? non c'è nessuno peccato volevo usare il bazooka vabbè giriamo va carichiamo si la pistola carichiamo capirai prendi questo il diavolo è lì oh attenzione sparano da sopra aspetta ci sparo il bazooka ce lo sparo arrivo mazza oh dov'è? dove cazzano la sta? ah eccolo no quello è il gertrudo stavo a sparare il bazooka a lui poverino oh qua intanto ma un'arma no? ah c'è oh cazzarola dentro 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 raga dentro dentro bravo il diavolo stati qua non ti muovere stati qua dentro amico mio perché questo ci fa male 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 pure lo avviene tutto eh ragazzi io non ho armi purtroppo non ho trovato nulla quindi vi posso aiutare molto relativamente fatemi trovare qualcosa e arrivo non morite vi prego non morite vi supplico io e il diavolo stiamo cercando armi grande l'avete uccisi? no è il diavolo a terra no il diavolo perché non mi ha seguito chi è? mi sa che c'è un cane ho sentito un cane può essere? è il diavolo dai e mo ti risuscitiamo qualora non dovessi farcelo eh c'è qualcuno qui? no ok aspetta io ho il tablet dov'è? ok arrivo vado da questa parte allora ci sparo un bazooka ragazzi se lo ricorda per tutta la vita non lo sta? dov'è? è di qua che succede? va bene andiamo andiamo va bene arrivo ho capito arrivo e il diavolo ce l'hai fatta? un'estate fa la storia di noi due e il diavolo facci sapere qua c'è Gertrudo abbiamo già i soldi per il diavolo 1.800 3.600 ancora 1.900 ci mancano vediamo qua se c'è qualcuno arriva il gas niente ok e il diavolo non riesce tranquillo amico mio ci pensiamo noi tranquillo amico mio ci pensiamo noi a farti rivivere dai c'è qualcosa per me qua mi avete lasciato? no niente ammazza oh ci sono presi tutto io c'ho sempre il bazooka non ce lo scordiamo non c'è nessuno quanto pare andiamo 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 2.000 3.800 4.400 ragazzi ci mancano 100 per il diavolo c'è qualcuno? no ok andiamo arriviamo arriviamo al diavolo ci mancano 100 100 6 terzi oh un'arma più decente grazie perfetto andiamo ragazzi facciamo risuscitare il diavolo raga e poi continuiamo dunque il più vicino a quanto pare sia qua andiamo io non è che abbia armi fantastiche però venditore qui fate scorta no no andiamo andiamo a risuscitare un attimo annullare annullare ma porca paletta ah c'era un altro là più vicino? ah effettivamente si andiamo di là va bene andiamo famo l'altro questo è più lontano effettivamente mi sparano signori porca sono morto dov'è? vabbè via 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 sorvolo avviato perfetto entriamo oh fate risuscitare il diavolo se ce la fate raga aspetta 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 vediamo un attimo ci sono dei nemici io ho i soldi no Gertrude è là dentro vabbè andiamo c'è uno che ci sta inseguendo ce l'abbiamo dietro 3.000 e qua oh dai 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 andiamo 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 risuscitiamolo risuscitiamolo via 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 dai ah beh ce li ho anche io i soldi dai eccolo qua annullare ah no ma è già ah è già stato scusate siete così efficienti che non me ne ero neanche accorto dove 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 e il diavolo mi raccomando non ti lanciare non ti lanciare arrivo 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 ok aspetta 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 esco di qua dove cazzo non la sono aspetta vediamo se li riesco a beccare non vedo nessuno però non vedo nessuno eh si vediamo tutti i movimenti ma io non vedo una mazza ma dove cazzo non è ah qua da questa parte qui dentro è il diavolo dov'è scusate l'abbiamo perso no è ancora qui tra noi ok quella è a terra è a terra è a terra ciao amico mio arrivederci grazie attenzione perché potrebbero esserci le altre e infatti c'è uno qua mi rimetto il giubbotto aspettate mazzo ci ha fatto fuori tutti questo senza giubbotti porca mia ora giusto devi caricare senza giubbotti se lo becco mazza ce ne due qua sopra oh oh aspetta 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 è il diavolo? dove sei? abbiamo uno credo che sia qua sono spariti perfetto abbiamo uno è qua sopra è il diavolo è qua sopra eccolo là mazzo e porca miseria è sempre che deve caricare sta arma schifosa oh scusate allora chi c'è caduto qua abbiamo un sacco di soldi che lo vado a boh che cazzarola non sparare a me perché mi spari che ti ho fatto di male ti ricordo qualcuno che ti ha picchiato da piccolo non mi sparare il diavolo ti prego so che magari non potrei starti simpatico dietro di voi grazie scusa non avevo letto il messaggio allora io vado a prendere l'equipaggiamento e andiamo a e poi andiamo a prendere Sabrina ok andiamo Sabrina pronta nemico un altro oh ma quanti ce n'è stai cedendo più colpi d'arma eh sì esatto ma perché io sono gentleman anche quando uccido non voglio far soffrire con i proiettili poi esce il sangue sai tutte ste cose pacchiane se vogliamo invece no facciamo così un bel colpo se è stato alla nuca e buonanotte no oh così senza soffrire colpo diretto vai che ci siamo dai e Sabri dove sta ah eccolo qua grazie eccola qua Sabrina vai poi il kit io muovi io e basta oh cazzalola chi c'è aspettiamo Sabrina magari che ne pensate che ne pensate che ne pensate che ne pensate te te scotiche mania qua c'è per Sabrina qua c'è un giubbotto qua c'è un'arma qua c'è solo munizione c'è un po' tutto per Sabrina e lasciate per Sabrina era ma era per Sabrina aspetta andiamoci adesso stanno a sparare andiamoci no vola eh ma porca paletta porca Sabrina ti vendicheremo aspetta un'aquila nel cielo Sabrina non resterai mai sola aspetta c'era qualcuno ah guarda mazza guarda dove micchio pazzesco ragazzi come si mimetizzava basta è morto è morto grazie però giusto bravo il diavolo mi raccomando per sicurezza dice intanto io un altro colpo io lo butto non si sa mai oh si mimetizzava oh si mimetizzava oh mimetizzava è una parola difficilissima da dire si mimetizzava in un modo incredibile allora pigliamoci i soldi andiamo va altro giro altra corsa per Sabrina prepararsi dai se vuoi super scenic siamo in due dove porti un quarto si fa l'ultima no no ragazzi questa è l'ultima giovedì prossimo torniamo però giovedì prossimo torniamo grazie caro ciccio per l'offerta per l'offerta questa sarà l'ultima anche perché stiamo andando molto bene aspetta quanti soldi ho 3.500 Sabrina è ancora là va bene andiamo però Sabrina vieni qua lascia stai il drop anzi guarda andiamo subito al drop ragazzi andiamola a coprire andiamola a coprire verso il drop verso l'equipaggiamento non lasciamola sola no lasciamola mai sola Sabrina tu non sarai mai sola potrei aprire anche un canale canterino ci penserò un canale di cover Sabrina adesso hai noi tranquilla prendi le tue armi con tutta la calma olimpica nessuno ti farà del male chi è quello? Gertrudo? eh aspetta sì 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 ho capito ho capito andiamo il canale di Karoge io sono appassionato di Karoge nel senso non sono bravo a cantare però mi piace avevo anche Singstar per chi lo conosce è un programma di Karoge per il PC con cui mi dilettavo nelle serate italiane a canticchiare strimpellare due note oh arrivo 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 occhio a una macchina raga una macchina attenzione c'è una macchina io mi butto mi butto lo sapete io sono molto aggressivo nel gioco oh sono in tre ragazzi ok 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 fatto uno è andato aspetta gli altri due uno è qua mazza ci stavo a sparare ok qua è libero grande il diablo comunque ancora tra noi nonostante la poca esperienza brevissimo ce ne è se guardate il tablet ce ne è un paio ragazzi ne abbiamo uccisi io quattro però abbiamo fatto una bella partita anche qua ragazzi complimenti un attimo salgo sopra può essere sopra eh sì infatti qualcuno qua aspetta aspetta ragazzi salgo è qua ah no chi stanno a sparare non ci sta ah forse è appena scappato qualcuno ha lanciato da qua una molotov dove cazzo non è di qua ce ne è due uno è là ma mi stanno a sparare a me ma mi stanno a sparare vabbè scendo va aspetta qua è sempre pericolosissimo ok grazie grande gertrudo rianimato aspetta mazza oh sto scendendo da dove sparano senti io questa la chiudo intanto per sicurezza dove siete ah qua sopra sono i nostri amici ok a terra a terra a terra a terra a terra a terra no 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 stavo scherzando non è a terra non è a terra copriteci copriteci fuoco di copertura signori mi rianimo fuoco di copertura mi aspetta sabrina guarda è qui bravissima grande ti aspetta ti rianimo aspetta 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 è il diavolo ti rianimo io amico mio non ti preoccupare nessuno ti lascerà mai dai grande azione questa ragazzi questo si che è un cazzo di team scusa twitch youtube per la parolaccia perdono ciao vittorio da quanto non scrivi in chat veramente ma me lo chiedevo un altro giorno caro vittorio dico ma dove cazzarole è finito vittorio vi è un piacere rivederti amico mio come stai grande azione questa bravi 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 mi è piaciuto tanto bravi veramente anche il diablo che ci ha dato fuoco di copertura ci ha permesso di sconfiggere il team una grande azione grande sabrina grandi tutti oh dov'è il siamo quasi al centro potremmo essere se siamo fortunati potremmo anche restare qua oh aspetta mi sparano via 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 ok 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 allora io direi di aspettarli qua ragazzi un attimo mi rimetto i giubbotti chiudiamo tutte le porte così siamo chiusi signori sempre presente eh ma in realtà sempre presente dove sei stato vittorio dimmi la verità dove sei stato sei guardato ciccio gamer eh dimmi la verità vittorio hai la playstation si attacco al grappolo alleato oh bravi oh famo qualcosa di cazzuto dove cazzo da dove spara aspetta 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 qua metto tu giochi a warzone caro vittorio ok questo è a terra ma poi non lo prendo aspetta preso senza giubbotti a terra un attimo l'ultimo colpo sbrigati per ricaricare mannaggia no ma porca miseria ma occhio 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 via 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 dalle finestre via dalle finestre via dalle finestre il diablo vieni mazzo come c'è ma da dentro casa grande meno male che c'è gertrudo no sto scherzando vittorio figurati figurati vittorio sto a scherzare gli altri grande grande gertrudo momenti di tensione assolutamente ma non ho capito perché ci ha ammazzato andiamo dentro la casa oh guarda dov'è senza giubbotti attenzione ragazzi di nuovo là mazzo sono sempre senza colpi è dietro l'albero signori dietro l'albero qua appena esce lo faccio secco ancora senza giubbotti di nuovo aspettate ragazzi ok a terra a terra a terra dietro l'albero ragazzi dietro l'albero a terra mazza di nuovo ma porca miseria dove cazzarole mi metto è perché momenti di tensione mannaggia oh ragazzi questo è duro da ammazzare ma porca miseria bello bello però mi sta piacendo oh l'abbiamo ammazzato a questo finalmente 6 si ok è morto ragazzi quello è morto quello che era dietro l'albero è morto ragazzi perché mi da 6 kill ne avevo 5 quindi sarà morto c'è qualcun altro che vuole sfidarci sento sparare ok sempre da là sparono ok ok aspetta 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 mi metto qua c'è nessuna non c'è nessuno non li vedo oh guarda dov'è mancato aspetta macchina andiamo andiamo è il diablo andiamo non so perché voglio pigliare la macchina non è una buona idea ragazzi non è una buona idea aspetta 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 chiudi 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 mazza non ho più giubbotti però ragazzi non ci disuniamo raga ok vai 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 è il diablo vieni Gertrudo chi è? Sabrina sta guidando Gertrudo vai ma che cazzo è il diablo vieni 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 è il diablo venghi dove cazzo ero lesto ragazzo mi farei uscire il pazzo mannaggia è il diablo vieni ragazzi è dietro cazzo scendi scendi usciamo usciamo ok a terra mannaggia niente raga andiamo a piedi dai andiamo a piedi andiamo a piedi andiamo a piedi andiamo ah no c'è ancora gente grande Gertrudo aspetta qua ok a terra a terra morto morto andiamo andiamo veloce 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 c'è il gas c'è il gas vabbè si che siamo ancora dentro la safe qualcuno è morto no Sabrina aspetta Sabrina ok a posto c'è Gertrudo che ci pensa aspettaci è il diablo 8 kill ragazzi ci siamo dai stiamo andando abbastanza bene devo dire sono molto soddisfatto il bastardone qui aveva una bella lanciatore personalizzato non era male bravo bravo un'ottima strategia non ha funzionato purtroppo attenzione abbiamo un cecchino da quel lato forza ragazzi dai che ce la portiamo a casa sperando che non ci sia nessun cecchino a romperci le balline andiamo verso questa casa si 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 sono d'accordo andiamo verso questa casa ragazzi tutti qua dov'è sabrina ah ok il gulag è chiuso ragazzi quindi siamo quasi al cerchio finale la tensione aumenta chiudiamo tutte le porte chiudiamo tutte le porte guarda ne mettiamo una qua questa qua nemico in discesa oh cazzo su fammi salire no il diavolo dove vai vieni è il diavolo vieni vieni non fare il coraggioso vieni vieni sta salendo ok ah no era sabrina ok avevo sentito una porsura oh vado di qua mmm dietro quel muro non lo riesco a pigliare però purtroppo occhio qualcuno occhio alla scala ragazzi occhio alla scala anche perché potrebbero entrare da sotto no mazzo ho preso ho lasciato il tablet giù aspetta 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 uavvi nemico uavvi nemico cioè oh 20.000 oh eccolo a terra ok morto morto team annientato ragazzi team annientato dai dai ragazzi la taglia è qua sopra la taglia ragazzi è sopra queste case probabilmente ma io la lascerei stare sinceramente al momento non ce ne frega una mazza ci abbiamo uno shop vicino piuttosto mazza non vedo nessuno aspetta poi con Gertrude davanti ancora peggio bravo il diavolo tu controlla la scala bravissimo non si sa mai potrebbero entrare ragazzi serve uno shop io non ho un kit non ho nulla purtroppo grande grandissimo andiamo si sta muovendo però oh cazzarola attenzione ci sta puntando grande mamma mia che cazzarola di colpo la testa grandissimo mamma mia grande scusate l'adrenalina e mille porca miseria però non l'abbiamo ucciso probabilmente ora lo rianimeranno ragazzi però peccato questo era un grande colpo questo era un headshot fantastico al primo colpo e infatti si sta spostando restiamo qua per adesso servirebbe lo shop come l'aria ma per adesso restiamo qua eccolo là aspetta stavolta l'ho mancato si sposta si risposta oh ha lanciato il c4 occhio 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 ha lanciato il c4 mi rimetto i giubbotti oh attenzione potremmo essere quasi nel cerchio finale ragazzi mercoledì attenzione chi mi rianima per favore ok non ci affacciamo da questa finestra raga non ci affacciamo da qua non ci affacciamo restiamo qua dentro per ora giochiamo a tendisti signori restiamo a tendisti giochiamo a tendisti non vi affacciate là perché c'è un cecchino che ci sta puntando ora gli arriverà il gas ragazzi gli arriverà il gas quindi sarà costretto a spostarsi sarà costretto a spostarsi il maledetto quindi stiamo siamo attenti si starà buttando verso di qua eccolo no cazzo ho sbagliato tasto no ma porca miseria mannaggia occhio raga arriveranno tutti di qua ma l'abbiamo un bambino l'abbiamo una mazza signori aspetta 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 fammi mettere qua dovrebbe essere da questa parte raga ecco bravo sabina tu guarda la scala siamo quasi al cerchio finale ragazzi grandissimo una partita pazzesca attenzione sparano no cazzarola questa è brutta vabbè non dovrebbe farci molti danni hanno aperto la porta ok a terra sono a terra anche io dai raga no ci hanno annientato tutti incredibile terzi ragazzi terzi mamma mia bravissimi peccato peccato come hanno fatto hanno sparato sicuro il classico rpg che ci ha ucciso a tutti immagino 9 uccisioni gertrude 6 sabrina 2 è il diavolo grandissimo 1 bravo bella partita ragazzi partitone hol a non dipendente